buongiorno ragazzi o buonasera a seconda di che ora state guardando questo video e vi chiederete perché questo video c'è un motivo tutto il motivo di questo video è perché tutti su youtube e non solo state continuando a scrivere fate più contenuti fateli durare di più e prevento che avete ragione infatti non so se l'avete visto ma nella home del canale c'è un'icona nuova con su scritto abbonati a che cosa serve in pratica è un modo semplice e veloce per supportare il canale da parte vostra quindi dovete semplicemente cliccare sopra e supportare il canale questo che cosa fa fa sì che con una piccolissima cifra ma veramente una piccola cifra mensile da parte vostra questo fa sì che noi così possiamo migliorare qualitativamente il canale in modo più veloce ma soprattutto possiamo avere la possibilità e l'opportunità di inserire più contenuti video durante la settimana quindi ragazzi questo che cosa vuol dire vuol dire che non ci sarà solo più il video del venerdì ma ci saranno moltissimi altri video anche durante la settimana cogliete questa occasione cliccate in per abbonarvi tutto quello che entrerà nel canale verrà utilizzato per il canale in attrezzatura e tutto quello che serve per far crescere il canale statene pure certi e tranquilli ovviamente ragazzi questo fa anche sì che voi abbiate dei vantaggi perché visto che siete voi che chiedete di fare di più noi facciamo di più però abbiamo bisogno anche di una mano da parte vostra e quindi abbiate dei vantaggi anche voi nel senso che abbonandovi ognuno di voi verrebbe riconosciuto con un piccolo bello che quello sta a significare che voi siete un follower abbonato quindi qualora voi scrivete nei commenti o comunque in chat in diretta e quello che è voi comparirete il vicino al vostro nome questo badge che identifica voi come utente abbonato ovviamente questo non è un obbligo noi non vogliamo che voi vi sentiate obbligati di fare questo dovete fare perché è una piccola cifra perché dà modo di supportare il canale di crescere velocemente e di far molte più cose che possono piacere a voi oltre a questo piccolo vantaggio ci possono essere tantissimi altri vantaggi a cui stiamo lavorando che vuol dire delle live solo con gli abbonati dei contenuti video solo per gli abbonati dei post per gli abbonati di poter parlare in diretta solo con gli abbonati stavamo pensando anche di far uscire il video ipotizziamo quello del venerdì magari un po prima qualche giorno prima un giorno prima due giorni prima per chi è abbonato lo può guardare in esclusiva o addirittura fare una premiere solo con gli abbonati quindi guardare il video appena uscito direttamente solo con gli abbonati e commentarlo insieme questi sono alcuni vantaggi che si possono usufruire una volta che cliccate il tasto abbonati non sono attivati già da ora subito però vi possiamo dire e garantire che man mano che ci saranno abbonati noi lavoreremo per poter raggiungere questo obiettivo poi possiamo studiarci insieme anche tantissimi altri vantaggi che ne so uno di voi mi dice ma sarebbe figo se io mi abbonassi e avere questa cosa qua lo facciamo la studiamo e lo facciamo è un modo molto semplice basta cliccare sull'icconcina e si va direttamente nello spazio per abbonarsi noi per ora vi ringraziamo ringraziamo tutti quelli che decideranno di abbonarsi da qua in poi noi ci siamo lavoriamo per noi ma anche per voi per cercare di portare dei prodotti di qualità e quindi diamoci una mano l'uno con l'altro ciao ragazzi ciao ciao ciao